se la ragazza solucuto e sono su questo nuovo video allora se vi dico quello che è successo con sto gioco meglio si mette del manino i capelli guardate che succede l'applicazione felling fred si è bloccato in modo anomalo la preventa di riaprire non si apre bene mi porta un game play stasera per capita no niente si staglia per un po che vorremmo scaricare forse va bene che ne sbaglia un altro felling fred troppo che so sangue che questo prima questo dai facciamo questo sangue cervello intestino visto che sarebbe un gioco e diretto sono meglio breve forse a pass forse non voluto che il giorno non si aprisse e non devi scaricarlo sicuramente farà di nuovo il difetto quindi stagliamo questo almeno non vi lascio lo vi lascio senza che in play da un poco ci sta anche questi giochi qua però su assecruenti vediamo a passo no passo inizio blod zombie and gore zombie amputator Ah, tipo alla Sweet Ninja Oh Vediamo un po' se riusciamo a tagliarlo in due Ok Ah, è 3 secondi di Eh, non so, è questa puttana No Sì Fa un culo Va beh Va beh, non fa niente, dai, chiudiamo Peccato però, eh Carino Eh, a me ne metto un gameplay, dai, lo metto qua Mi ricordo che si chiama Prod, Brains and Server o qualcosa del genere Mi spese per quel gioco Ma date che il mio telefono non è una merda, porca puttana Già ve l'ho detto Che è un diamine di Huawei P8 Lite Smart Che in pratica da problemi La manuola soprattutto Mi si sta pure intasando I giochi stupidi li devo cancellare perché è inutile Le portano anche Dragon Perché me ne dimentico completamente Non ho la Playstation per della disposizione perché mi si è rotta Il 31, il dopo il 31, se tutto va bene, la dover ricomprare Avendo la garanzia di ancora sei mesi Che poi ho la versione Uncharted 4 blu La versione limitata 600 euro, porca puttana, quella cosa Più due joystick, 30 euro l'uno 640, no, 660 euro in total Più la garanzia di euro e 50 Sono 667 euro e 50 Vabbè ragazzi, io vi do qua Scusate per il gameplay Ma purtroppo non mi si apriva il gioco Non mi devo scaricarlo Almeno vi ho lasciato Abbiamo aperto questo gameplay Un po' di cazzeggio, giusto così Vabbè, se vi è piaciuto Sono le 10 e 20 Quindi sono anche stan Non mi è andato a dormire Buonanotte